ciao ragazzi andiamo adesso a lavorare sul colpo di testa soprattutto sul colpo di testa in tuffo come togliere la paura per andare a colpire la palla di testa tuffandoci per andare a realizzare un gol bellissimo guardate il video questa è una propedeutica per allenarvi sulla paura di andare a colpire la palla di testa in tuffo state attenti ammortizzate bene la caduta con le spalle quindi non state rigidi con le spalle ma cercate di partire con le braccia distese per andare poi ad ammortizzare dolcemente la caduta a terra ragazzi allenatevi interagite con me commentatevi rispondete a tutti lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ciao a tutti